In questi giorni è emerso che per avviare il cantiere per il nuovo ospedale di Pesaro alcuni reparti, alcuni servizi verranno abbandonati per sempre, chiusi per sempre dalla città di Pesaro. Ovviamente questa è una scelta che ha fatto l'attuale regione Marche, che non condivido, anche perché un conto è un trasferimento provvisorio per il cantiere che ovviamente ci sta, perché siamo tutti consapevoli che per realizzare il nuovo ospedale è necessario trasferire alcuni servizi, un conto invece è prevedere già da oggi che alcuni servizi vengano trasferiti in maniera definitiva dalla città di Pesaro. In particolar modo mi riferisco al reparto di psichiatria, reparto che è importante, strategico, che rimanga nella città di Pesaro, che ricordo è il capoluogo di provincia, la seconda città delle Marche e solo pensare di togliere questo reparto penso che sia molto grave e ritengo che questo sia un grave errore. Dall'altra parte addirittura lo spostamento delle comunità protette, maschile e femminile, parliamo di persone in gran parte non autosufficienti, cioè che le famiglie non riescono a gestire all'interno delle proprie abitazioni, persone che hanno disturbi di tipo psichiatrico, che attualmente sono anche loro ubicati nella struttura di Muraglia, secondo la regione dovrebbero andare a Monbaroccio. Monbaroccio è una struttura che dovrebbe essere realizzata ex novo, quindi non capisco perché occorre realizzare una nuova struttura a Monbaroccio, spostando persone che per la gran parte sono soggetti che sono pesaresi. Intervento nuovo che se era necessario si poteva realizzare benissimo a Pesaro. All'interno di tutti questi problemi emerge quindi quello che avevo già dichiarato, la nuova volontà di creare una vera e propria casa di comunità nella città di Pesaro, cioè uno spazio dove mettere tutti i servizi che oggi sono presenti a Pesaro in diversi punti, cioè sono sparpagliati un po' in tutta la città, a volte anche in affitto, io penso che era più opportuno, era più, come dire, riuscire a trovare una soluzione che prevedeva di accorpare, anche qui all'ex manicomio di Spazio Ecerno, accorpare i servizi sociosanitari, se non si voleva fare l'ex manicomio si poteva benissimo fare in un'altra struttura o cercando di condividere, di trovare insieme al comune un terreno dove poterla realizzare.